Buonasera, ben trovati con l'appuntamento per le nostre breaking news. Parliamo di truffe, ne abbiamo raccontate molte nel corso di questo anticipo d'estate. I malviventi, i truffatori hanno colpito ancora questa volta una famiglia aretina che aveva cercato di affittare una casa al mare ma invece si è ritrovata ad aver pagato un anticipo tramite un bonifico oltretutto in un sito considerato molto sicuro. Quindi la raccomandazione è mai fidarsi per prima di effettuare un bonifico accertarsi della effettuale realtà di una casa soprattutto se magari non è poi tanto lontana ed è pur sempre in Toscana. Il Comune di Arezzo ha bandito il concorso per la realizzazione del bozzetto per l'impugnatura della lancia d'oro della 146esima edizione della Giossa del Saracino, quella che si correrà il primo settembre. Le varie opere dovranno essere consegnate per venire al Comune entro e non oltre le 12 di lunedì 22 luglio. La procura di Arezzo ha concluso le indagini a carico di due ex sindaci di Cortona, Francesca Basanieri e Andrea Vignini, per la morte di un anziano. L'incidente che ha portato all'inchiesta avvenne la sera del 3 maggio del 2023 a Pergo. L'anziano uscì di casa, cadde in un cantiere morendo due giorni dopo. Le indagini non hanno individuato alcuna responsabilità da parte dei due ex sindaci, prosciolto anche il titolare dell'impresa. Secondo l'accusa le ferite mortali erano state causate dalla ferita ma non sono stati ravvisati legami con l'operato dei due ex amministratori. Ed è tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci.